Allora amici miei torniamo per l'ultima volta sul matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser perché veramente ci appaiono clip interessantissime in continuazione, allora i due sposi qui appaiono molto posati, adesso tra un po' vedremo la nostra Cecilia in mutande che tira il buco, mi sono straconvinta oggi che questa ragazza ha veramente un fisico perfetto, qui è in una delle sue mise scelte per il party di matrimonio, anche Ignazio Moser ovviamente non si risparmia per le danze, si sono bevuti il mondo alla nostra faccia in questa bellissima tenuta che è quella di Artimino in Toscana ed ecco la quara nostra Cecilia, mamma mia una visione spettacolare, praticamente i mutandoni che tira il bouquet, bellissima, il matrimonio l'ha resa davvero spettacolare questa ragazza, sono divertiti per giornate intere, questa poi è la scalinata di questa tenuta fantastica e questo è il dettaglio delle fedi scelte dai due sposi, un bacio grande, ciao!